Allora, il bilancio è estremamente positivo per quanto riguarda il lavoro svolto, in mezzo anche a difficoltà che sono generali non solo del Monopoli, intendo anche il fattore climatico, dover lavorare con un clima incandescente sotto tutti i punti di vista non è stato semplice, per cui credo che la squadra si sia preparata nel migliore dei modi e adesso abbiamo la possibilità di dimostrare che si sia fatto un buon lavoro. Per quanto riguarda il mercato, sono già state dette delle cose da parte mia, c'è la volontà comunque della società di porre rimedio dove si pensa ci siano delle lacune, per cui credo che al di là di questo c'è la volontà di costruire una squadra che possa dare quelle soddisfazioni che tutti ci auguriamo. Sì, diciamo che soprattutto i primi turni o il primo turno, perché si tratta alla fine della prima partita ufficiale, ha un'importanza notevole, c'è entusiasmo da parte di tutte le squadre per affrontare e iniziare bene questa stagione. Quindi probabilmente la Coppa Italia viene sottovalutata a priori come mentalità italiana, in realtà poi ha un valore importante, tant'è vero che poi garantisce a chi arriva in finale un posto di tutto rispetto per quanto riguarda la griglia dei play-off. Detto ciò, appunto, noi abbiamo la volontà di partire con il piede giusto per darci quell'entusiasmo e trasmetterlo poi a tutto l'ambiente di Monopoli. Siamo entusiasti di ritornare sul nostro terreno ed entusiasti di incontrare o rincontrare i nostri tifosi. Quindi la voglia di far bene è tanta domani, chiaramente come noi, ma tutte le squadre in questo momento della stagione possono avere delle difficoltà che vanno a toccare quello che può essere una non perfetta condizione fisica, ci mancherebbe che fosse tale in questo momento, ma appunto anche a livello di schemi serve appunto è una partita che è ufficiale, quindi ci sono anche delle pressioni su cui poi bisogna lavorare costantemente, perché al di là dell'aspetto tecnico-tattico, poi bisogna anche sapersi relazionare con quelle che sono le pressioni esterne che una partita di campionato ti può dare, e anche interne. Per cui è un banco di prova importante da cui poter trarre degli insegnamenti e trarre degli spunti per il lavoro futuro. Detto ciò appunto non vedo l'ora e curioso di vedere cosa possiamo dimostrare. Adesso concentriamoci, io capisco che c'è la volontà e sono il primo insieme alla società nel voler completare nel migliore dei modi sotto tutti gli aspetti, anche per assortimento di qualità la nostra rosa. Però in questo momento mi sembra giusto concentrarci su quello che è l'impegno di domani e essere rispettosi dei giocatori che in questo momento sono a mia disposizione. Per cui tutto quello che verrà successivamente sarà fondamentalmente per il bene del Monopoli. A oggi credo che sia giusto parlare esclusivamente della partita di domani e mettere nelle condizioni migliori i nostri giocatori per potersi esprimere e dimostrare quelle che sono le loro qualità. Tutto il resto ne discuteremo post-potenza. Ma allora, il ritiro lungo comporta alti e bassi a livello emotivo. Chiaro ti permette di avere una conoscenza più approfondita perché credo che il ritiro sia il momento ideale per una conoscenza reciproca fra giocatori stessi e staff e giocatori. Poi è inevitabile che c'è un momento in cui c'è grande entusiasmo e gli stimoli sono importanti per cui tutto ti viene amplificato in maniera positiva dopodiché c'è una specie di flessione dove subentra un pizzico di stanchezza psicologica e per cui magari c'è un appannamento anche in una semplice esercitazione viene meno bene rispetto a quando si era più brillanti mentalmente. Per cui io spero che il momento più esaltante debba ancora venire. Questo è solo l'inizio e abbiamo tante possibilità, ci saranno tante difficoltà ma speriamo appunto di uscire da queste difficoltà con delle gioie. Allora, chiaro che tutti quei giocatori che sono arrivati da noi con un pizzico di ritardo rispetto a chi ha cominciato devono sicuramente riallinearsi dal punto di vista fisico. Mercadante è appena arrivato a una discreta condizione, abbiamo cercato di dargli minuti nell'ultima amichevole con una squadra di categoria inferiore perché appunto si presumeva che i ritmi potessero non portarlo a rischiare eccessivamente infortuni muscolari. Fortunatamente abbiamo centrato l'obiettivo per cui salvo due infortuni uno muscolare che è quello di Grandolfo che comunque è risolvibile in breve tempo e quello più complicato di Borrelli è stato importante poter concludere il ritiro senza grandi infortuni.